Voglio rivitalizzare i quartieri, fa star bene ogni persona e nei luoghi in cui abita. Combattere quindi l'insicurezza, garantendo la legalità da parte di tutti, ma anche offrire opportunità sociali, culturali e commerciali in ogni quartiere. Questo significa garantire la presenza delle forze dell'ordine dove è necessario, ma anche di presidi che creino animazione e vitalità in ogni quartiere. Recuperare gli spazi oggi vuoti e abbandonati, sia commerciali che residenziali, garantendo un mix abitativo e associativo, combattendo così anche l'occupazione abusiva.